buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 18 agosto si ricorda sant'elena imperatrice elene è un nome greco classico proveniente dal termine elene torcia fiaccola con il significato quindi di brillante altre fonti lo ricollegano al nome selene che significa letteralmente luna dice il proverbio il gioco della fortuna è mutevole quanto la luna sono nati oggi robert redford gianni rivera sergio castellito il 18 agosto 1987 il governo degli stati uniti autorizza la prima sperimentazione sull'uomo di un vaccino anti-ice da allora le ricerche si moltiplicheranno nel 1990 avviene interrotta la produzione dei dischi a 45 giri poiché è un supporto che non viene più richiesto dal mercato infine il 18 agosto 1993 a lucerna va distrutto dal fuoco il ponte della cappella interamente in legno costruito nel 1333 era il più antico ponte d'europa e il simbolo stesso della città robert e il lane ha detto le donne ed i gatti faranno ciò che vogliono gli uomini ed i cani dovrebbero rilassarsi e abituarsi all'idea arrivederci da barba nera dal 1762 l'almo e l'italia